C'è una grande energia oggi qui al Bootstrap, non solo economia circolare ma veramente creazione di partnership a valore fra le varie realtà che abbiamo incontrato, perché in un mondo dove il sistema veramente crea un'economia che diventa più grande, fatta dalle componenti di ogni realtà è forse un sistema ancora più sostenibile. Abbiamo imparato tanto, abbiamo condiviso tanto, ci siamo detti e abbiamo ribadito il fatto che siamo in un mondo che è sempre più incentrato sul dato, quindi in una società che deve misurare, analizzare, correggere, conoscere. Questo è l'entusiasmo che oggi è emerso dai tavoli di lavoro e c'è veramente tanto futuro in questa giornata.